Il protocollo è ancora quello della settimana scorsa, quindi solo tre blocchi di lavoro Cambio un pochino gli esercizi in modo da aumentare l'intensità delle cose Ok, perfetto, in marcia, in marcia, in marcia così 10 minuti per noi per scaldarci, poi abbiamo poi il suo altro location un po' prima, giusto? Mi raccomando non passare da la sera per le camera, benissimo 4, 3, 2, allarga, benissimo così Ottimo 8 ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, proviamo a chiudere Poi uscire il ginocchio Anche qua, facci le nostre, meno forte Perfetto Da qua inizia piano piano un piccolo joggy Ripalziamo la gamba a gamba Così 8 ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marcia, marcia Su le gambe 4, 3, 2, allarga, 8, 4, e di nuovo piccolo joggy Facile Facile 4, 3, 2, piccolo di passi a te pari Modili, modili Cercando di mantenere bene il controllo 4, 3, 2, allarga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marcia Via di nuovo Superi le gambe Temperatura che lentamente sale Prova ad aprire 8, 4, nuovo piccolo jogging Sicure le riparci 4, 3, 2, al centro Inizia piano con la braccia Così Altri 8, 8, 7, 6, 5, perciò ad allargare le gambe Inizia le pade piccole E sensore Sicili in balzi Così Non jumping jack Ma inizia bene a scaldare l'articolazione dell'anca 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marcia Su le gambe 4, 3, 2, allarga 4, 3, 2, concetta Devo ammettere che mi fa mostrare Aspetta quando mi dite Ma tu ci sarai Faccio fatica a rinforzare con certezza perché c'è pratico a marcia Aspettino non c'è problema E poi quando dici come stai Bene, nessun problema Vai a marcia Vai così 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimbalzi Hits, edges Così Indie per il sedere Schiena che rimane perfettamente dritta Rimbalzo bene sui talloni 4, 3, 2, step up Ammi schiuti Brassi e pressi a 90 gradi Porto il vomito all'altezza della spalla 8, ancora 4, ancora Leggero Tallone sul gluteo 8, ancora Solo 4 Sui ginocchio Nip Preoccupandomi fondamentalmente di venire l'anca 8, ancora 4 Marca Ragazzi la temperatura è vista di salire Allarga 4, ancora Conoscenza Perfetto e così Rimbalzando bene il cisello Mi lascia ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hop in Up and down Subete con le braccia e inizio a distendere quelle spalle In modo da entrare bene in temperatura 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Mi raccomando le spalle belle aperte Il capo in linea 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, step touch Più sui grovisi Più sui grovisi E iniziamo così Chi do venire in scapole? 8, 8, 8 Tutto questo a 4 minuti dall'inizio dell'attrocità Leggero Leggero La gamba dietro Prendi a fare il doppio Doppio Ancora Ultimo Sul ginocchio Tiena singolo Inizio ad aumentare la rotazione del tronco Doppio Ancora Ultimo Marcia E anche la temperatura più avanzale 4, ancora Allarga E inizio ad imbalzare a destra e a sinistra Oddi sulle caviglie Spingo bene sulle arche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Chiudo Vado Spingo bene Inizio a liberare le caviglie 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Triscaliamento progressivo 8, ancora Se inizi a fare caldo è tutto ok E' quello che deve fare Davide Sino Sino Ste читate E' di più Più e inizio Vai Spicc 페ine Personalmente 4, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6öt 1, ancora Gli attivano wirde sulle achate ogie Lecchero, lecchero, dall'altra verso la seconda braccia, potete farlo doppio, doppio, ancora, ancora, ultimo, mi ha simolo, bella la torsione, doppio, ancora, corso sul corso, sulle gambe, corso a calciata, perfetto corso, iniziamo bene a scaldarci, temperatura che sale, cuore che sale, andiamo, perfetto corso, attenzione, iniziamo per iniziare la lezione, ci ricordiamo come si fa, giusto? 8 blocchi da 20 secondi, con 10 secondi di recupero, gli 8 blocchi sono tutti quanti a tema, il primo giro dei 3, quindi abbiamo 3 blocchi da 8 di lavoro, intervallati da 5 minuti di recupero cardiovascolare, è un lavoro, è un lavoro cardiovascolare, piuttosto intenso, due esercizi da selezionare, potendo poi alternare eventualmente, qualora le gambe non tengano più, ok? o col baci o quant'altro, mi raccomando, l'obiettivo è quello di dare il massimo nei 20 secondi, è ovvio che lentamente la prestazione andrà scemando, man mano caderemo verso l'ottava, ma voi dovrete cercare di dare comunque il massimo sostenibile, forse anche più lento, ultimi secondi, 2, 1, marcia! un minuto per noi per capire cosa fare, attenzione, esercizio base, sì? quindi, quello che mi piacerebbe, che voi facesse, la volta scorsa avevamo visto lo skip veloce e basso, vero? a questo ci aggiungiamo gli spostamenti da una parte all'altra, sì che se l'avete a sufficiente, avete 2 metri e mezzo abbondanti, 2 metri e 65, per andare da linea a linea, il più velocemente possibile, qualora non se la facciate, skip veloce a ginocchio alle base, ok? perfetto, 20 secondi e si parte, al via si parte, allo stop si si ferma, non al via si pensa di partire e allo stop siamo già metà strada di stessa, ok? ok? benissimo, 8 secondi, perché dico queste cose? 3, 2, 1, vai! colpi, 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 dalla parte all'altra, basso e basso in centro, arrivare a prestare la linea, arrivare a prestare la linea, sulla testa, sulla testa! colpi, 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 colpi! veloce a terra, veloce a terra, su veloce a terra, bene così, benissimo, là! ottimo, l'ultimo, l'ultimo, due, spauta, bravissimi, ne mancano solo 7 tratti? 4, 3, 2, go! vai, arriva alla linea, arriva alla linea, io con lo schermo come margine, vai così! vai, 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 vai così! vai così, spingete, spingetese con le gambe Spermi il sedere Chiara Vai dietro Tu colpi a terra Carghe con le gambe Larghe con le gambe Spalza Ti raccomando Non questo Ma questo ok Via 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 così Vai 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 Proteggiamo il vostro amico Non vi preoccupate Vai così Ritmo 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 Colpi colpi di schiena Pausa Dai che inizia a fare il caldo Siamo già al terzo eh Lo senti quando diventeranno barpees Via 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 Se avete tempo per lamentarvi Avete piatto per lavorare Vai così Si inizia a capire Quando una classe lavora Quando non vola una mosca Nel tempo di recupero Vai godri vai Colpi 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 Gli ultimi 2 1 Pausa Era dalla quarta Ne mancano 4 Vi ricordo Se ne ha fatto più potete partire con un skip Si Pronti Pronti Via Colpi 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 Passando Passando verso il sinistro Passando verso il sinistro Vai così Veroci 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 All'interno Veroci All'interno Quei piedi Vai 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 inizia a essere tassante come lavoro vedete quello che deve fare pronti 2 1 che è quello che dicevo prima si parte a via e si ferma lo stop vai 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 come vi dicevo se non riuscite a mantenere lo stesso ritmo di prima per sopraggiunta impossibilità cambio respiratoria raventate ma non fermatevi pausa si dice bene abbiamo praticamente finito il primo blocco pronti ultima vai 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 colpi 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 attenti a casa col franche vai così vai vai non ho ancora visto nessuno dare via in fine all day on ice ma me lo aspetto stop siete caldi? anche ok è il momento per asciugarsi e se avete necessità piccoli sorsi non bevete a gargianella 5 minuti per tornare in noi marcia marcia scordiamo ottimo 8 7 6 5 4 3 2 3 touch apri i più di cerchiamo di recuperare le gambe che ovviamente ci sentiranno belle consistenti apri i più di iniziamo a scaldare le spalle obiettivo di questi oramai 4 minuti e 15 scendere un pochino col cuore recominciare a respirare in maniera elegante e controllata 6 4 3 2 let go oh ah che finito andiamo 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 anche caldo pochi pochi ancora un minotto senti che ti cominci a respirare normalmente piano piano no? mia ovviamente al netto delle sigarette consumate ok il recupero dovrebbe essere più o meno rapido si anche avere un bel pegato steatotico da weekend arconico iniziato il giovedì sera e finito praticamente alle 3 di notte di domenica non aiuta moltissimo la performance ad alta intensità senza tutti anche i miei tre pacchetti di sigarette può essere che sia leggermente passato il recupero step touch apri i chiudi gomiti alti perfetto abbiamo ancora due minuti e mezzo adesso ricominciamo piano a salire col cuore adesso che ascendo ricominciamo piano a salire senza tornare troppo su ma iniziamo a salire il secondo blocco di lavoro è sul cuore quindi addome è un po' di giù ultimo leggero ultimi notto ultimi 4 ultimi notte ancora 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 per la torsione del trucco scaldate bene il movimento torsivo si che vogliamo metterci a lavorare a terra adesso l'addome e la schiena devono essere bene liberi 8 7 6 5 4 3 2 cortetta a dire cuore che ricomincia a salire cercano un minuto e venti continuate ancora bene sempre da zionare sentendo bene la spitta se vuoi fare un piccolo regalo ai tuoi glute interni coscia puoi spingere da destra a sinistra a fatto che le ginocchia si è non complesso di farlo ok perfetto ottimo ottimo così sentendo il corpo va a destra a sinistra e perfetto ricordiamoci sempre intanto abbiamo con la raffanata 5 secondi che l'interno e l'interno coscia oltre a le varie funzioni motorie come adduttore e adduttore sono degli stabilizzatori l'amica appena vi è una forza di tagli solo interreggono per stabilizzare l'amica quindi gli interni coscia non si fanno solo con la super machine sono tanti modi più instabile un esercizio maggiore crevolgimento ergo gli affondi e tutte queste cose qua sono alla base di un bel interno coscia ultimi scomentiamo l'aereo ok tutto ok 4 3 2 capitano ok benissimo esercizio base tornare vedete 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 oggi 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 facile che sai come farlo tap delle spalle veloce se non riesco a farlo o al termine punto ne ha fatto più posso fare il mountain climber come visto la volta scorsa ok mi raccomando il tap delle spalle Billy Gonzalez rapido ok altrimenti mountain climber se non ce la faccio per problemi alle spalle o ai pulci criss cross pronti via 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 5 secondi ancora pausa pronti di nuovo 4 3 9 1 via 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 secondi se vedi che le spalle ne appanno più può essere che ci sia un cedimento strutturale 3 3 pausa potete fare mountain climber col sedere basso e i ginocchi che si avvicinano ai polsi via di nuovo vai via di nuovo così ritmo ritmo giù cedere più così più così più così tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac di nuovo in questo caso ripetita juvent non so non è esattamente 4 così su quel sedere su quel sedere fatemi vedere fatemi vedere la casa se lo vediamo fuori pausa anche che c'è da fare caldo così così vediamo vediamo tutti pronti 2 1 via c'è anche la Vale ciao Vale in televisione ciao Vale in televisione ciao se voglia vai così stiamo 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 ottimo ottimo vai 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 Daniela stagli dentro così tutti gli altri sempre schermo pausa pausa eh lo so è una roba tremenda bravo ne abbiamo già fatti 5 gli 8 via 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 le pace con dritte le espressioni di fatica a dimostrare quanta fatica fate tenetela per un fogliatoio adesso pensate a fare vai vai panza oppure fatele durante l'esercizio non all'inizio pronti siamo già a 6 fate vuol dire che ne mancano solo 2 via via insieme mi raccomando passo in linea così pausa pausa siamo all'ultimo siamo all'ultimo vai 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 ritmo 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 credi che si scaldano le spalle 2 1 stop cerchiamo i piedi dai dai che questo non era tremendo però mi insegna intanto a stare su una mano poi quando dovremo apposare i gommi se viene il suo e fare tutto il lavoro l'abile sarà un po' più complessa ma intanto noi ci avviciniamo è momento ok per asciugare un attimo i pollori piccolo sorso l'acqua e via 4 minuti e 45 da parte noi per scendere un pochino con l'idea città 4 3 2 step touch atti chiedi alti gol cerchiamo di liberare le spalle risultano un pochino capramate bene così normale mi raccomando questa è la spalla questi sono i polsi no è del parisi 8 7 6 5 4 3 2 lecchio 8 ancora perfetto fino alle colte liberate quelle spalle che poi vi servono sul ginocchio ancora ancora ok lo ce l'ho letto l'altra volta ricordate il prosto il prosto il prosto prima di fare la lezione vai così vai 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 gli ultimi 4 3 2 corsetta leggera animo 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 così 3 4 3 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7 8 10 10 11 12 12 13 14 14 14 15 15 16 16 17 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 19 20 20 20 20 20 20 20 un po' più su, più sfida, talloni sui glutei, inzionare ben su, ok, attenzione, abbiamo il terzo blocco in arrivo, gambe e braccia, la volta scorsa avevamo fatto 4 esercizi di gambe, scusate, 4 serie di gambe e 4 di braccia, ma non serve che vi terminate, voi siete domenzi del multitasking, quindi potete correre e ascoltare contemporaneamente, da qua, torrenti con i giochi, leggero, destra a sinistra, questa volta introduciamo una cosa che ci servirà lentamente nelle prossime lezioni, è che un po' ci fa faio tra braccia, gambe e barbie, quindi, barbie, adesso li vediamo, ci sarà, ah no, voi continuate pure, non c'è problema, c'è ancora 40 secondi per tenere la bobbina alta, una serie di rock jam, quindi quelle che abbiamo fatto una volta scorsa, tutto con terra e salto, dopo li vediamo, poi una serie di finamente sulle braccia, e una serie di barbie, vi faccio lo sconto perché sono troppo buono, mi sento ancora il prima natalizio ad osso, quindi, essendo 3 per 3 farete 9, essendo l'ultimo esercizio, il barbie, lo farete solo 2 volte, sarebbe stato molto più però se avessi iniziato con il barbie, anche se sto per cambiare idea, che cazzo ci fate fermi, scusate, i fermi, marcia, scusate ci ho detto fermi, ok, allora, un minuto e partiamo, vediamo velocemente come si fa, il prop jump, punta leggermente fuori, il hinge, tocco terra e falso, e stendo, no, tutti i stordi vi fate male, quindi tocco, salto, piegamento sulle braccia, potete farlo a gambe tene, o a ginocchia, appoggiate, ma ad ogni modo, fatto bene, l'ultimo, il barbie, è questo, ok, troppo facile, 10 secondi, pronti, se non potete saltare con lo squat, non saltate fate scopo veloce, tieni, mi raccomando, la schiena bella dritta, punta fuori, e stretto bene anche, vai così, fatemi vedere da casa cosa viene fuori, bravissimi, così, Luisa, gioco il culo, vai così, non so come si dice il romano, pausa, a terra, adesso, adesso, non serve il tapetino, 3, 2, 1, fia! 10 secondi, forza! I goviti, le sentite chiuri, testa in linea, tocca la resta nella fronte, forza, coraggio! Ultimi, pausa, indieti, 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 proti con burbis! A questo posto, 3, 2, 1, fia! Ritmo, 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 ritmo! Diego Dì, puoi farlo per lungo, max! Vai, 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 stop! Perfetto! Pronti a ripartire con il front dance? 2, 1, fia! E stendi quella anche, fasi calazzo! Un po' più, come dire, di brio, grazie! Indietro con il sedere, rimbalzare, giri, cilastici, ultimi, giù con il sedere! Pausa, a terra! Se ti butti 2 secondi, prima inizi 2 secondi, prima inizi 2 secondi, prima i piegamenti! Vai, 2, 3, 3, via! Lasciatelo stare l'asciugamano, non vi serve! Vai così, via, via, via! Testa in linea, ottimo così! Spingere sulle braccia, attivare le scapole, forza l'ultimi 2 secondi! Pausa, i piedi, i piedi, i piedi, proti con burbis! 5, 4, 3, 2, 1, vai! Il premio lo potete fare in mezzo, per cui iniziate a toccare terra, intero! Ritmo, ritmo! Via così, via così il ritmo! Banda! Pensate che tra l'altro non farete più burbis, a meno che non passate la rinferita! Pronti? Via, parcia! Eh? Spontro l'altro! Le scene in sala sono pietevoli! Mamma mia, per fortuna che ne uscivamo tutti i migliori! Pausa! Ma dove? Pronti con i piegamenti sulle braccia! 3, 2, 1, adesso Angela! Vai! Quando dicevo... Mi raccomando ragazzi, al dia si parte! Intendevo proprio questo! Tienci secondi, tienci secondi! Sandra, sei sicura della testa in linea? Ok! Ultimi? 2, 1, pausa! Adesso mi piacerebbe dirvi ragazzi, è stato un piacere, andiamo! Ma che cosa... Cosa c'è? 2 minuti di... Settimana scorsa! Le cose cambiano nella vita, per fortuna! Se no saremo sempre uguali ai ventesi, non saremo mai migliori! 2, 1,5 oggi! Signore e signori, pronti a partire! Preparateli! L'alcova! Vi ricordo che comunque, mezzo scorso, vabbiamo 2 minuti e 3 minuti, eh! Quindi... 2, 1,5 è comunque migliorativa! Ci siamo? 24 secondi, sui gomiti! Possibilmente per tutti 2 minuti e mezzo! Se non ce la fate più, potete salire a braccia a te! Ok? Sono troppo buono, eh! Pausa e cosa? Pronti? 2, vai! Allora, adesso spiego il concetto di 2 minuti e mezzo continuativi! Continuativi significa che non si interrompono, ergo non c'è pausa! Vai così! Sono già passati 15 secondi! Troppo facile per voi! Mantieni i glutei! Testa in asse! Alluminio spinta! Ombligo in centro! Mantieni! Vai così! Non so se vi fa piacere, ma vi dico che ad adesso è passato un minuto! Forza, 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 forza! Non fate figa che vi facciano male i gomiti! Che non è vero! Spinti sulle mani! Così non fanno male i gomiti! Quando state di spiaggia sui gomiti a leggere e fare, fate ore! Così! Come potete detto, se no non ce la fate più, fra 30 secondi potete andare a braccia tese, senza appoggiare le ginocchia! Corretta, cos'è il successo? Cos'è il successo? Ancora 15 secondi e poi ci saranno solo 30 secondi ancora! 10 secondi e poi solo 30! Alessandra, scusami! No, la porcina la puoi sistemare dopo, non c'è problema! 30 secondi! Se volete potete allungare le braccia, senza toccare le ginocchia e la terra! Dov'è l'orgoglio? Mancano solo 12 secondi! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Appoggio le ginocchia e la terra! Allunghi dietro! un'altra È veramente uno stretching molto veloce di routine, il minimo sul mercato del tipo di lavoro che stiamo facendo, la parte è un po' di più, ma tutto non si può fare, appoggia ben i piedi, su, cerchè sfidere il sedere verso l'alto, i talloni verso il basso. Da qua portiamo il sedere indietro, giù, scendere fra i talloni, a scaricare bene la lombare, se poi riesci ad aprire anche la schiena, allutta le gambe, tieni la pistola, e cari ragazze, presenti in sala e presenti a un'air.